silvio berlusconi rompe il centrodestra un disastro cari amici un disastro silvio berlusconi rompe il centrodestra io ipotesi non fingo questa notizia la leggo la leggo su un pregiato quotidiano e questa notizia ve la metto come linea riassunto di questo video il lockdown invece di unirlo il centrodestra lo ha spezzato e l'iniziativa l'ha presa silvio berlusconi silvio berlusconi matteo salvini giorgia meloni formavano la tripla triplice la triplice triplice alleanza ma ora silvio berlusconi rompe rompe la triplice alleanza si è si è defilato ha cominciato a defilarsi sul fondo salva stati perché il fondo sta salva stati non lo volevano matteo salvini e giorgia meloni e invece silvio berlusconi si è schierato dalla parte del governo altro che e poi c'è stata la questione della occupazione del parlamento voluta da matteo salvini silvio berlusconi ha detto no per cui ora il centrodestra si spacca si spacca e si tratta di vedere dove dove vorrà andare silvio berlusconi io l'ho già detto queste cose certe cose l'ho già detto ho già detto che silvio berlusconi andrà con matteo renzi matteo renzi andrà con silvio berlusconi perché matteo renzi è figlio politico del silvio berlusconi sì matteo renzi non è ricco sfondato come silvio berlusconi però ci hanno qualcosa in comune sul piano politico per cui silvio berlusconi si avvicinerà avvicinerà al governo tramite matteo renzi e nel futuro si può ipotizzare un'unione tra forza italia e italia viva italia viva è il partito fondato dal senatore matteo renzi e la situazione è molto strana perché il lockdown il lockdown avrebbe dovuto unire unire matteo salvini giorgia meloni e silvio berlusconi invece li ha disuniti disuniti cose cose strane che succedono per colpa del lockdown e io io la situazione ora la vedo così io vedo un progressivo avvicinamento di silvio berlusconi a matteo renzi no matteo salvini matteo renzi si avvicinano si avvicinano cioè silvio berlusconi si stacca da matteo salvini da giorgia meloni e si avvicina all'area governativa all'area governativa c'è da meravigliarsi di tutto ciò perché silvio berlusconi ormai sta in politica mi pare ma cosa so 25 anni 30 anni che sta in politica mi pare mi pare che silvio berlusconi sia sceso in politica ai tempi di mani pulite subito dopo bettino craxi mi pare mi pare comunque sono 20 25 anni che sta in politica e ancora 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 regge accidenti nonostante la sua età ancora regge io però qua penso alla tristezza la tristezza di matteo salvini e giorgia meloni matteo salvini e giorgia meloni non si meritavano questa situazione perché tra l'altro sono stati proprio matteo salvini e giorgia meloni che all'inizio all'inizio del coronavirus dicevano chiudere chiudere le frontiere chiudere chiudere le frontiere chiudere tutto così il virus non passa così il virus non passa è merito loro è merito di matteo salvini e di giorgia meloni se c'è un lockdown severo non si meritavano matteo salvini e giorgia meloni che 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 silvio berlusconi spaccasse il centrodestra beh io ho detto la mia cari amici e voi dite ora la vostra e allora io dico a matteo salvini a giorgia meloni di non essere tristi di non essere tristi dico loro giorgia meloni matteo salvini procuratevi subito una copia di questa opera storico mitologica e mentre la leggerete sarete tanto felici a giorgia meloni a matteo salvini a silvio berlusconi a matteo salvini e al lockdown e a tutti voi tanti cari saluti da serafino ma show nì